Fine della corsa, si interrompe subito l'avventura nei play-off del campionato di Serie D del Cerignola che perde 1-0 in trasferta alla semifinale secca del Girone H con la Cavese e rimedia la prima sconfitta stagionale contro i Metelliani. Non c'è spazio per il Tris dunque in favore degli Ofantini che avevano vinto entrambi i precedenti della stagione regolare. Serviva un altro successo sulla distanza massima dei 120 minuti per accedere alla finalissima degli spareggi. Questa volta invece nella partita più importante la spuntano con il minimo scarto i campani che domenica prossima affronteranno nell'atto conclusivo di questo raggruppamento il Taranto, sempre in casa e sempre in gara secca. Vincenzo Silvestri alla ricerca del primo successo della sua gestione da capo allenatore sceglie tre centrali per il pacchetto arretrato, Ciano, Allegrini e Dibari. Pollidori fa da diga in mezzo al campo mentre l'assortimento del tridente offensivo è quello annunciato alla vigilia. Morra e Loiodice a supporto di Longo. Prima mezz'ora dedicata alla fase di studio, la Cavese gestisce il ritmo e il Cerignola prova ad intuire pregi e difetti degli avversari. Padroni di casa pericolosi due volte in pochi minuti, prima con Fella che impegna così Maraulo, poi con Martigniello che esalta le qualità del giovane portiere dei gialloblu. Gli ospiti replicano in chiusura di frazione con un mancino di Longo che sfiora di pochi centimetri il bersaglio. 0-0 all'intervallo, ripresa più vivace che si apre con una buona occasione per il Cerignola. Scambio Loiodice Longo con quest'ultimo che di testa impegna bisogno. I pugliesi provano a vincerla nei 90 minuti ma a metà della seconda frazione arriva il vantaggio della Cavese con Fella che complica ulteriormente la missione degli ospiti. Mazzata psicologica non indifferente sul morale sulla testa degli uomini di Silvestri. I campani provano ad approfittarne, il palo nega la gioia del raddoppio a Martigniello, poi sugli sviluppi dell'azione Gorzegno su cross di Massimo spedisce la sfera di poco a lato. I gialloblu provano a replicare ma l'unico tentativo degno di nota, un colpo di testa di Longo su cross di Loiodice non incide sul risultato. Finisce così 1-0 per la Cavese che domenica prossima sfiderà il Taranto in casa in virtù del miglior piazzamento secondo contro quarto della stagione regolare. Si conclude al Simonetta Lamberti invece la stagione in serie del Cerignola, partita decisamente con altri auspici e terminata senza lieto fine.